E' stato immortalato dalle telecamere di sicurezza del bagno 119, stabilimento in cui un 23enne residente a Maiolati Spontini in provincia di Ancona ha derubato una coppia di turisti. L'allarme è scattato ieri intorno alle 13 sul lungomare Leonardo da Vinci di Senigallia dove era stato segnalato un furto. I carabinieri della stazione di Marzocca hanno setacciato i luoghi limitrofi per cercare di scoprire il responsabile. Grazie ad alcune testimonianze raccolte sul posto, i militari hanno individuato un giovane che si aggirava con fare sospetto, a piedi, indossando solo l'abbigliamento intimo. Il ragazzo, alla vista della pattuglia, ha abbandonato a terra alcune cose che aveva in mano. Il movimento però non è sfuggito alle forze dell'ordine che hanno raccolto gli oggetti. Due iPhone e un portafogli con documenti e denaro contante. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che si trattava della refurtiva di un colpo commesso pochi minuti prima in spiaggia. Ma quello non era l'unico reato commesso dal giovane. I carabinieri, infatti, all'interno della sua auto hanno trovato documenti di identità, carte bancarie e la somma in contanti di 155 euro. Erano il provento di altri due furti commessi sempre in mattinata ai danni di due uomini che avevano già sporto denuncia. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre il 23enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari. Questa mattina si è svolta l'udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Ancuna, che ha disposto per lui l'obbligo di dimora.